Domanda, da dove viene questo di Roche? Dice Yal, adesso appena l'ho sentito mi è sembrato qualcosa di favoloso, c'è Zinzum e dopo di colpo si divide il guf, cosa entra, cosa non entra, da dove viene tutto questo? Questo non era prima, così sembra dice Yal, e quindi da dove viene? Io anche mi faccio questa domanda, da dove viene Roche? Puoi rispondere tu? Quando si forma Roche? Dopo Zinzum, Massach, è la luce che ritorna, dice l'amico. Dopo della vergogna, Zinzum non vuole ricevere niente e il padrone di casa gli fa pressione e dice io devo, se voglio relazionarmi con il padrone di casa, io non posso ricevere perché per vergogna preferisco morire e quindi a lì viene un'idea così, pensiamolo così, posso ricevere con i fini di dare al padrone di casa e quindi io non sono ricettore ma ricevo per dare e quindi questa ricezione si converte in dazione e la vergogna si converte in onore e io do tutto a lui e lui mi dà a me e io do a lui così come lui mi dà a me e quindi stiamo in adesione, vero? Giusto? Facciamolo adesso. Quindi cosa mi manca? Solo fare il calcolo perfetto, giusto, che io posso ricevere con i fini di dare. Devo per questo sentire cosa mi dà, sentire i padrone di casa, quello che io voglio, fare restrizione, fare il calcolo. Questi calcoli che sono nel desiderio di ricevere si chiamano Roche. Che vuol dire testa? Domanda, cosa vuol dire che Roche riconosce il padrone di casa? Domanda a Yal? Rav. Il Roche sente le dieci sefirot, queste dieci sefirot sentono quello che ricevono dal padrone di casa e inoltre sentono che gli fa vergogna ricevere da lui, vero? Si è rivelata la vergogna nella fase d'Alet, la quarta. E cosa fare? E quindi, dopo tutti questi calcoli, io mi restringo bene. E quindi, adesso Roche fa tutti questi calcoli e nella parte del desiderio di ricevere più sviluppato che sente il padrone di casa attraverso la sensazione di vergogna. E per questo noi, per rivelare il creatore, dobbiamo lavorare attraverso la vergogna. Fino a che io non senta che riceve da lui, mi fa vergogna, mi brucia e quindi non lo rivelerò fino ad allora. Hai trovato quello che ho appena detto? Yaniv dice, nell'introduzione del test, dice che la forza di rifiuto, di ricevere il pasto si converte in kelim di ricezione invece del pasto e della fame perché il pasto e la fame si sono convertiti e solo rifiuto si sono convertiti in kli perché nel rifiuto si è convertita la ricezione in dazione e così ha conseguito i kelim di ricezione giusti per ricevere il pasto dell'amico e quindi non si può dire che uno non ha bisogno di questi kelim perché senza desiderio di mangiare non può riempire il desiderio dell'amico e farlo contento mangiando perché il pasto e la fame che si sono annullati di fronte nella loro forma comune adesso si sono convertiti in una nuova forma che riceve con il fine di dare e in questa maniera la vergogna si converte in onore e quindi i kelim di ricezione continuano a funzionare ma solo con una forma diversa nuova è chiaro questo? dovete pensarlo questo dovete metterlo nella mente non c'è niente di difficile nemmeno di spirituale sono cose logiche della mente vediamo Nari Shalom